La vita è un cammino che non si può percorrere da soli, lo ha detto Papa Francesco incontrando in Vaticano i membri del Korean Council of Religious Leaders. Ricordando con gioia e gratitudine il viaggio apostolico compiuto nella Repubblica di Corea nell'agosto del 2014, il Pontefice ha chiarito che il dialogo interreligioso fatto di contatti, incontri e collaborazione è una sfida protesa al bene comune e alla pace. Il mondo oggi domanda risposte e impegni condivisi su vari temi, la fame e la povertà che ancora affliggono troppe popolazioni, il rifiuto della violenza, in particolare quella commessa profanando il nome di Dio e dissacrando la religiosità umana, la corruzione che alimenta ingiustizie, il degrado morale, contesti che richiedono un dialogo aperto e rispettoso. Abbiamo dunque davanti un cammino molto lungo da compiere insieme, con umiltà e costanza, senza alzare la voce ma rimbocandoci le maniche, per seminare la speranza di un avvenire in cui aiutare l'uomo a essere più umano, un avvenire nel quale si è dato ascolto al grido dei molti che repudiano la guerra e implorano maggiore armonia tra le persone e le comunità, tra i popoli e gli Stati. In questo senso, ai leader religiosi è chiesto di aprire, favorire e accompagnare processi di bene e di riconciliazione per tutti. Siamo chiamati ad essere banditori di pace, annunziando e incarnando uno stile non violento, uno stile di pace, con parole che si differenziano dalla narrativa della paura e con gesti che si oppongano alla retorica dell'odio.